Cassa integrazioni che tardano ad arrivare, retribuzioni di contratti part-time ancora più basse, niente stipendio fino ad ottobre e futuro incerto per le riaperture delle scuole che potrebbero prevedere la chiusura delle menze. E' quello che sta accadendo in provincia di Teramo alle lavoratrici e ai lavoratori della ristorazione scolastica che sono scesi in piazza per protestare. La situazione è drammatica perché alcuni loro non hanno percepito la cassa integrazione, altri l'hanno percepita e sappiamo benissimo che la cassa integrazione c'è una decurtazione importante del salario. Un salario che comunque di base era già basso perché partiva da contratti che vanno dalle 10 alle 30 ore settimanali, quindi hanno una media di 20 ore settimanali, un part-time al 50%. Sappiamo benissimo che con questi salari bassi si fa fatica ad arrivare a fine mese in una situazione di normalità. Figuriamoci sotto a cassa integrazione, se non si percepisce a cassa integrazione, se non si ha reddita durante i mesi estivi e soprattutto col punto internazionativo di ottobre. Ad oggi nessuno sa cosa succederà a ottobre perché stanno valutando qual è la condizione migliore dal punto di vista epidemiologico e sanitario per far ripartire la scuola. Quello però che non è accettabile è una questione, quale sarà la retribuzione delle lavoratrici, a prescindere dalla forza lavoro. Perché se è vero come è vero che non devono essere lasciati dietro nessuno, chi aveva un contratto a tempo indeterminato al 5 di marzo del 2020, a ottobre non può perdere un lavoro. Soprattutto le lavoratrici che lavoravano presso le scuole, ossia presso enti pubblici pagati dai cittadini. In particolare per le lavoratrici e i lavoratori delle menze scolastiche, il Covid-19 ha significato interrompere completamente l'attività lavorativa, creando tantissime difficoltà nella gestione dell'economia familiare. Durante la protesta sotto la prefettura di Teramo, gli addetti alle menze hanno chiesto agli amministratori comunali di poter continuare a lavorare anche in altri ambiti. Una questione di sopravvivenza. Viviamo sì un po' di fantasia, nel senso che magari potremmo essere impiegate in altre manzioni, nel frattempo che ci sia più chiarezza sulle direttive generali. Una cassa integrazione che non è arrivata subito, che non è arrivata completa e che sostanzialmente a giugno ci abbandona, perché noi abbiamo la retribuzione soltanto fino al 30 giugno e poi da contratto riprenderemo il primo stipendio a novembre. Nei mesi estivi non abbiamo nessun sostentamento, rimaniamo assunte per 25 ore settimanali, perché c'è la sospensione di servizio ma non il licenziamento, per carità, grazie a Dio. Però se vai a fare un altro lavoro e hai sui punti e poi alla fine, ti giochi un po' tu.